Due incarichi ad affinamento diretto da 140.000 euro l'uno per recuperare i crediti vantati dei comuni soci morosi. La determina del 7 novembre scorso dell'amministratore unico del Coggesa, Nicola Sposetti, finisce sul tavolo della Corte dei Conti. A chiamare in causa i giudici contabili è stato il sindaco Gianfranco Di Piero, dopo che altri sindaci hanno contestato la scelta di Sposetti di affidare incarichi diretti ai legali esterni. Antonietta Ciccossi del Foro dell'Aquila e Fabio Caprioni del Foro di Teramo. Senza comparazione dei curriculum e senza avviso pubblico, non ci si può assolutamente esimere da far rilevare che il conferimento di incarichi di tale tipo non può essere sottratto, trattandosi di società intero capitale pubblico alla disciplina generale, in particolare al comma che prescrive l'obbligo di una procedura comparativa, così come espliciti pronunciamenti in materia no sancito che rientra tra le buone pratiche per l'affidamento dei servizi legali la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi del settore di competenza, previamente istituiti a seguito di una procedura trasparente e aperta, scritto il sindaco Di Piero nella lettera spedita alla Corte dei Conti, attraverso la quale si chiede di ritirare la stessa e di sottoporre tempestivamente la problematica all'approvazione del controllo analogo. L'azione del recupero crediti del Coggesa mette in mora i comuni che devono pagare arretrati per 4 milioni di euro, escludendo cioè dal contenzioso le due cause già avviate contro SM e MOTE che valgono 1,8 milioni di euro.